benvenuti in questo nuovo video vi anticipo già che da questo video partiranno una serie di gameplay su The Sims certo non tutti tipo non dopo l'altro ma magari spezzando un pochino con altri video e altre cose però parte questa serie che ho intitolato Sims e Follie quindi non ve la perdete vi raccomando vi raccomando vi raccomando mi raccomando va bene è uguale e comunque vedete qui sotto se farò se mi doverà dei giornali lo potrò fare quindi partiamo subito con il gameplay perché non so più dov'è eccolo qua appena sfondato mi sono già creato il sim perché ho pensato che se ci dovevamo fare il sim perdevamo tipo 5 minuti di gioco perché comunque fare sim è difficile cioè chi si vuole fare belli è sinceramente una pescisa quindi ok e mi sta caricando ragazzi mi sta caricando e perché mi estende pubblicità io non lo so perché se c'è anche a me questa pubblicità io non lo so però vai mi sta caricando ok ok si sente veramente la mia voce abbiamo pulito giusto in tempo per arrivare per arrivare del film si ok ok bene si ok ora che dovrei fare non ho capito se non farlo entrare in canale mi raccomando perché è bruttissimo livello trascorsi e inizionanti discutiamo di casa della sonda vabbè discutiamo di casa della sonda anche perché è forza casa ehm fado con il sito per non dire altro chi è questo va bene finito di socializzare con con chi non lo so sono davvero ve lo vedi che è un robot si non lo so perché l'avevo interpretato in precedenza ok 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 guarda quanto è brutto che è il caffè no, già le quattro parola guarda che il caffè può essere buono ma non bello, ok? dia una possibilità a un aspirante barista come me speriamo di riuscire a fare almeno un'istessa speriamo perché non ho ancora sperimentato il gioco appellito capacità, capacità, capacità corinale oddio, non è tutto scherzio perché non è brutto, non è brutto, non è brutto e lo vedete bene eeeh mh mh vai però, non so mh troviamo qualcosa da fare inizio, allora, ovviamente, lavoro per me allora, che dobbiamo fare mh e prepara il caffè vai e prepara il tuo caffè no adesso ci serviamo mh qua, solo qua, così per esempio fermo nannannann�가 vabbè pulisce il tavolo voi noti che face valu che cosa ne dici? vabbè capito io e pulisce il tavolo mamme vai Scrossa le gomme a picciclare No che schifo va bene va Continuiamo a 10 secondi va bene Ok Abbiamo finito di lavorare Ok hai finito di pulire Ok capito E adesso cosa dobbiamo fare Qui direi Fai un caffè Ok Andiamo finendo l'evento di lavorare per un turno breve E adesso direi Che appena finito il turno Vi ricordo anche se è finito E adesso è qualcosa Scrivi lì Scrivi lì Scusate ragazzi Vabbè Ok ritiro il compasso Va bene Va bene Direi che il video potrebbe anche finire qui E noi ci vediamo al prossimo video Sì ok è durato poco Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Grazie.